Con fatturazione elettronica di Aruba puoi scegliere tra due modalità per creare le tue fatture, Smart e guidata. In entrambi i casi la fattura conterrà tutte le informazioni necessarie, ma con una differente modalità di visualizzazione. Se desideri una modalità di creazione rapida e intuitiva, che ti consenta di controllare il tuo documento con un'occhiata, allora la Smart è quello che fa per te. Clicca su Crea fattura in alto a sinistra. Il sistema apre la modalità di creazione fattura, Smart o guidata, scelta nelle impostazioni. Di default è impostata come predefinita la creazione fattura Smart. Nella modalità Smart l'interfaccia è rapida e intuitiva. Tutti i dati sono presenti all'interno di un'unica pagina e cliccando sulle varie aree logiche puoi compilare i campi necessari alla creazione della fattura. Ti basterà verificare ed eventualmente modificare i dati relativi al documento. Seleziona un cliente tra quelli presenti in elenco o aggiungine uno nuovo. Aggiunge e modifica prodotti e servizi. Attiva e compila i moduli aggiuntivi necessari cliccando sulle voci di interesse. Seleziona le modalità di pagamento. Durante la compilazione potrai vedere in tempo reale tutti i totali, calcolati automaticamente dal sistema, e li potrai modificare manualmente. Terminata la compilazione, clicca su Invia. La tua fattura verrà trasmessa al sistema di intrescambio per essere poi consegnata al tuo cliente. Ricorda che se hai attivato il server SMTP in uscita su Impostazioni, potrai inviare una copia cortesia della fattura al tuo cliente dal tuo indirizzo di posta e con un template personalizzato. Se invece preferisci inviare fatture con una procedura che ti accompagnerà passo per passo, puoi utilizzare la creazione guidata. Vai su Impostazioni e inserisci il flag su Creazione fattura guidata, quindi salva. Clicca su Crea fattura in alto a sinistra. Il sistema chiede se vuoi provare ad utilizzare la versione Smart più comoda e più veloce. Se preferisci ancora usare la procedura guidata, scegli No Continua con la modalità guidata. Con questa interfaccia avrai a disposizione un percorso guidato per la compilazione del documento. I passaggi della creazione sono suddivisi su pagine specifiche, riepilogate nella barra di navigazione in alto. Un simbolo di spunta indica il completamento di ogni singolo passaggio. Nella creazione di un documento in modalità guidata, saremo noi a suggerirti l'ordine di compilazione. Nel primo passaggio dovrai inserire i dati del cliente. Seguirà la sezione o l'aggiunta di prodotti e servizi. Come nella creazione Smart, potrai vedere in tempo reale tutti i totali calcolati automaticamente dal sistema. Potrai quindi configurare il regime fiscale. Imposta il metodo e le condizioni di pagamento. Scegli e configura eventuali dati aggiuntivi da inserire in fattura. Terminata la compilazione, puoi visionare l'anteprima del documento per verificare che tutti i dati siano corretti. clicca su invia e la tua fattura verrà trasmessa al sistema di interscambio per essere poi consegnata al tuo cliente.